La scrittura è il mio primo di scrittura E' il 18 febbraio oggi E' ufficialmente tipo il secondo giorno per noi Bella ragazzi Dani, dove stiamo? Stiamo in una cattedrale che avevamo a fare il bombo a fare un bel appopolo Che cosa vuol essere ragazza a questi 41 anni? Beh, non sono arrivato due anni di grande Mi senti, ti hai volato però Ah, meno male Dani, che giorno è oggi? E' il 7 aprile E continua E continua Tui, tu, tu, tu Tui, tu, 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 tu...